La proposta che vogliamo formularvi è quella che riguarda Sergio Mattarella. Pongo in votazione la proposta di Sergio Mattarella come candidato alla Presidenza della Repubblica. Pongo in votazione la proposta di Sergio Mattarella. Mattarella. Sergio Mattarella. Mattarella. La proposta di Sergio Mattarella. Mattarella 665. Il pensiero va soprattutto, anzitutto, alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. Mattarella. 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 Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare invienemente la Costituzione. Nel linguaggio corrente si è soliti tradurre il compito del Capo dello Stato e ruo di un arbitro, di garante della Costituzione è un'immagine efficace all'arbitro compete la puntuale applicazione delle regole l'arbitro deve essere e sarà imparziale Viva la Repubblica! Viva l'Italia! Viva la Repubblica! 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 Grazie a tutti.